Musica Primarie del Partito Democratico, anche in Basilicata, stravince il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, un dato che avrà ripercussioni anche sul Partito Lucano, d'impronta renziana. Reddito di cittadinanza in Basilicata, sono oltre 20.000 le famiglie interessate, da mercoledì sarà possibile fare domanda. A Barile è arrestato un richiedente asilo, il 23enne, ospite di un centro di accoglienza, nascondeva la droga in un materasso. Matera in cima alle classifiche delle mete preferite per Pasqua, l'anno da capitale della cultura e da record, previsti arrivi più che triplicati. Nel nostro spazio dedicato allo sport, è resoconto della domenica a cura di Donato Valvano e stasera torna all'atteso appuntamento con Stop & Goal. Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV, lo avete sentito dai titoli in apertura nel nostro TG di Oggi. Parliamo delle primarie del Partito Democratico. Anche in Basilicata stravince il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con il 48% dei voti. Si apre una nuova fase nel Partito Nazionale che avrà ripercussioni anche in quello di Basilicata, di impronta renziana. Il servizio è di Mara Risola. Urne chiuse per le primarie del Partito Democratico, che hanno registrato un'affluenza discreta anche in Basilicata, dove a votare si sono recate oltre 15.000 persone. Anche nella nostra regione, come in tutta Italia, stravince Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio e il nuovo segretario del Partito Democratico Nazionale. La fine dell'era Renzi. Un dato che anche a livello regionale spiazza gli equilibri, soprattutto in un partito a maggioranza renziana. Zingaretti, infatti, è sempre stata l'anima alternativa a Matteo Renzi, al cerchio di parlamentari del Giglio Magico. Si apre così una nuova fase nel Partito Nazionale, che potrebbe avere ripercussioni forti, anche in quello lucano. Il totale incassato dal nuovo segretario nella nostra regione è stato di 7.231 voti, pari al 48%. Maurizio Martina, invece, sostenuto da buona parte dei parlamentari lucani, dal segretario e dagli assessori regionali, la somma del partito di Basilicata, ha ottenuto 5.745 voti, pari al 38%. Giacchetti, 1884, pari al 12%. Andando poi ad analizzare i voti nello specifico, Zingaretti vince nella città di Potenza, con 745 voti, Martina 354 e Giacchetti 170. A Matera, sempre in Polzingaretti, con 998 voti, con uno stacconetto rispetto a Martina, che ottiene solo 182 voti. L'unica percentuale positiva per Martina è quella provinciale su Potenza, dove l'ex segretario ottiene il 44% dei voti e il neosegretario il 40%. La vittoria di Zingaretti rappresenta comunque la fine di un'era, una fase che per la Basilicata potrebbe rappresentare uno spartiacque, anche sulla gestione del partito regionale, sempre che non ci sia la corsa a salire sul carro del vincitore. La portavoce lucana del Movimento 5 Stelle, Mirella Liuzzi, replica alle dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Silvio Berlusconi alla nostra testata. La politica di regime, dichiara la Liuzzi, punta a continuare l'inganno e la favola del petrolio. Il petrolio è oro per i petrolieri ed è nero per i territori dove si estrae, mentre le royalties sono appena il 2% del bilancio della regione. Berlusconi, dichiara la Liuzzi, lascia intendere con queste parole che si possono anche aumentare, ma si guarda bene dallo spiegare che le royalties non si possono aumentare dalla sera alla mattina, eppur raddoppiandole resterebbero una briciola di fondo rispetto al bilancio della Basilicata, che è di circa 3,5 miliardi di euro all'anno, più i fondi europei, circa un miliardo di euro per sette anni. Solo gestendo meglio la sanità in Basilicata, con ad esempio un minimo risparmio del 10% delle spese folli, in termini di stipendi e strutture complesse tra gli amministrativi di ASL e ospedali, la regione incasserebbe più del doppio di un anno di royalties. Figuriamoci, conclude la Liuzzi, a gestirla meglio in ogni suo assessorato. In vista delle elezioni regionali del 24 marzo, con Celestino Benedetto, andiamo a scoprire quali sono le modalità di voto disposte dalla nuova legge elettorale. Il 24 marzo si vota in Basilicata per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Sono chiamate alle urne oltre 460 mila elettori lucani. Sarà eletto Presidente della Regione e Governatore, secondo l'articolo 2 della nuova legge elettorale, chi tra i candidati otterrà il maggior numero di voti. Sul sito web del Consiglio regionale e sul canale YouTube dell'Assemblea sono stati pubblicati due video a cura dell'ufficio stampa del Consiglio regionale per spiegare le modalità del voto. Il primo riguarda il voto domiciliare e assistito, il secondo le novità della nuova legge elettorale. L'elezione si svolgerà a turno unico senza ballottaggio. Contestualmente al Governatore sarà rinnovato anche il Consiglio regionale, composto da 20 rappresentanti oltre al nuovo Presidente. Se il Presidente eletto dovesse superare il 40% dei voti, avrà diritto a una maggioranza di almeno 12 consiglieri. Se invece dovesse fermarsi tra il 30 e il 40%, saranno 11 i seggi garantiti. Sotto quella soglia, infine, saranno solo 10. Il nuovo sistema elettorale ha abolito il listino bloccato. L'assegnazione dei seggi verrà effettuata con criterio proporzionale, in base al numero di elettori. 13 spetteranno alla provincia di Potenza e 7 a quella di Matera. Un seggio è garantito al candidato governatore arrivato secondo. Non è previsto il voto disgiunto, ovvero non è consentito votare per un candidato consigliere, contestualmente per un Presidente a lui non collegato. L'elettore potrà scrivere fino a due preferenze, e all'interno della stessa lista in base alle norme sulla parità di genere. Ora parliamo del reddito di cittadinanza. In Basilicata sono oltre 20.000 le famiglie interessate. Da mercoledì sarà possibile fare domanda? Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Michelangelo Russo. Sono almeno 22.000 in Basilicata i nuclei interessati dal reddito di cittadinanza. Da mercoledì 6 marzo sarà possibile fare domanda tramite i CAF, i centri di assistenza fiscale, o attraverso gli altri due canali, le poste e il sito redditodicittadinanza.gov.it dopo aver attivato lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale. L'invito che arriva dai sindacati è di non affrettarsi, soprattutto perché solo dal 20 marzo prossimo i centri di assistenza fiscale saranno in grado di trasmettere le domande. Tutti i CAF sono ancora in attesa dell'accreditamento alla piattaforma informatica, ma questo non pregiudica il diritto a ricevere la prima mensilità, quella di marzo, nel mese successivo. Ovviamente chi presenta la domanda ad aprile riceverà la prima mensilità a maggio. Oltre al rispetto dei requisiti, chi fa domanda deve dichiarare di aver compreso tutti i passaggi necessari, i motivi di decadenza e le sanzioni in cui si incorre. Nel modulo è anche specificato che in caso di esaurimento delle risorse disponibili, l'entità del beneficio sarà rimodulata. I CAF hanno già attivato i patronati per la fase successiva. Con la proposta di un'occupazione che il cittadino riceverà attraverso un semplice SMS, bisognerà rivolgersi ai patronati oppure ai centri per l'impiego per la compilazione di ulteriori moduli di accettazione. Intanto il governo, attraverso una selezione per titoli e colloqui, assumerà con un contratto di collaborazione biennale 6.000 navigator da mandare nei centri per l'impiego. Una quarantina sono destinati in Basilicata. L'assunzione dei navigator senza un concorso però è contestata dalle regioni preoccupate che una volta entrati nei CPI possano ricorrere ai tribunali del lavoro per chiedere di essere stabilizzati. In questo quadro di incertezza ancora non è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei navigator sul sito di Anpal che il governo prevedeva di far uscire a inizio febbraio. La cronaca ha sorpreso con oltre 180 grammi di marijuana. Un cittadino nigeriano è stato arrestato a barile dai carabinieri. Il 23enne richiedente asilo stava passeggiando in centro e alla vista dei carabinieri si è disfatto di quattro dosi di marijuana. Ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari. Nel corso della successiva perquisizione effettuata all'interno del centro di accoglienza straordinario dove il 23enne è ospitato. I carabinieri hanno rinvenuto altri 180 grammi di marijuana suddivisi in più involucri nonché 58 euro in banconote di piccolo taglio provento dell'illecita attività. Il tutto era stato avvilmente occultato dal nigeriano all'interno del materasso del proprio letto. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg e ripartiamo dalla cronaca accusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato ed estorsione ai danni dei genitori e di un amico di famiglia. A Matera un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri militari. Intervenuti dopo una chiamata alla 112 lo hanno sorpreso mentre con un bastone stava distruggendo l'automobile dell'amico di famiglia. Vertenza CMD di Atella si torna a protestare per domani alle 10, ha annunciato il presidio degli ex lavoratori somministrati davanti i cancelli dell'azienda. La vertenza interessa 20 lavoratori che da ottobre scorso sono rimasti senza lavoro, nonostante gli annunci positivi di rilancio industriale e occupazionale. Le organizzazioni sindacali sono fortemente preoccupate in quanto a questi 20 lavoratori a fine marzo se ne potrebbero aggiungere altri 40. La trattativa, che va avanti ormai da mesi, è stata aggiornata al prossimo 12 marzo, ma i lavoratori continuano a chiedere la stabilizzazione e il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Calano le assunzioni in apprendistato nel 2018 in Basilicata, sono diminuite del 12,8%. A dirlo è un recente studio di Confartigianato. Il servizio è di Alessandro Panuccio. In Italia l'apprendistato continua a fornire un contributo positivo all'andamento dell'occupazione giovanile, con un incremento del 9,1% delle assunzioni dei giovani under 30 nei primi nove mesi del 2018. In Basilicata invece si è registrato un vero e proprio crollo delle assunzioni, meno 12,8% il dato del 2018 rispetto all'anno precedente, con la nostra regione che risulta essere maglia nera tra tutte le regioni italiane quanto a nuovi ingressi sul mercato del lavoro mediante questa forma di contratto. Ritornando al dato nazionale, in Italia il 10,6% del totale delle assunzioni di persone al di sotto dei 30 anni avviene mediante un contratto di apprendistato, mentre in Basilicata questa percentuale si dimezza scendendo al 5,3%. Una testimonianza forse dell'incapacità della nostra regione non solo di reagire agli stimoli derivanti dalle misure di decontribuzione, ma anche di comprendere che incentivando l'apprendistato si valorizzano le risorse umane di un territorio e lo straordinario patrimonio di saperi, estro e abilità racchiuso nell'esercizio delle professioni. Sono ripresi questa mattina e termineranno entro 30 giorni i lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Matera, a renderlo noto l'amministrazione comunale. Proseguono intanto i cantieri negli ipogei della piazza per l'ammodernamento dell'impianto elettrico. Termineranno nei tempi previsti dell'appalto. Avviati infine fa sapere ancora il comune di Matera i cantieri in via del corso. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha stampato un francobollo per Matera 2019 che raffigura uno scorcio dei rioni sassi, protagonisti indiscussi della capitale europea della cultura. Il francobollo celebrativo che stiamo vedendo, voluto dalla Mise, sarà presentato oggi pomeriggio a Matera. La cerimonia si svolgerà a Casa Cava. Saranno presentati sia il francobollo sia un annullo filatelico. Il francobollo sarà stampato in tre colori con una tiratura prevista di 2 milioni e mezzo di esemplari. E Matera è in cima alle classifiche delle mete preferite per Pasqua, l'anno da capitale della cultura e da record. Previsti arrivi più che triplicati. Sentiamo Rocco Romanelli. Matera, capitale europea della cultura e regina delle feste di Pasqua. Il portale Airbnb svela le destinazioni più popolari tra i viaggiatori italiani per le prossime vacanze e la città dei sassi registra sulla piattaforma arrivi record, più del triplo rispetto allo scorso anno. Non si arresta la crescita di Napoli, già incoronata dai viaggiatori, meta italiana più popolare per il ponte del 1 novembre 2018. Si riconferma tra le mete a corto raggio, più apprezzate anche per Pasqua, con arrivi triplicati rispetto allo scorso anno. Se tradizionalmente per soggiorni brevi i viaggiatori italiani tendono a restare in Italia, prediligendo le città d'arte, complice la vicinanza al ponte del 25 aprile, molti viaggiatori opteranno quest'anno per soggiorni a medio o lungo raggio. Tra coloro che resteranno in Europa, la meta più popolare è Cordoba, in Spagna. All'estero, l'Havana. Nella top ten delle mete più trendy, al primo posto c'è la città dei sassi. Nel Materano, inoltre, destra sempre più interesse il progetto promosso dalla no profit locale Wonder Grottole, che offre a quattro persone da tutto il mondo la possibilità di trasferirsi per tre mesi nel borgo lucano, diventando volontari e sostenendole la rinascita. Ieri, numerosi comuni lucani festeggiamenti sfilate in maschera per il Carnevale, a Potenza, la gran parata di maschere con raduno in piazza Don Bosco, poi la sfilata a lungo via le Firenze, via Angilla Vecchia, via Mazzini, via Pretoria, e infine piazza Matteotti, a cui si riferiscono le immagini. Qui, gran festa con musica, animazione e chiacchierata finale, nell'ambito della quale sono state distribuite chiacchiere, caramelle e zucchero filato. L'iniziativa è stata promossa dal coordinamento Nessuno Escluso, la Potenza del Carnevale, coinvolti gli istituti comprensivi della città di Potenza, la Proloco, il Centro della Potenza e l'Associazione di Promozione Sociale, Ciclo Stile, PIAB Potenza. E da parte mia è tutto, ora la linea va a Donato Valvano per le notizie sportive. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento di giornata. Ben ritrovati dagli studi della nuova TV con il consueto appuntamento con l'informazione sportiva del lunedì. Partiamo dal calcio e dalla Serie C. Andiamo a vedere subito il quadro dei risultati e la classifica del girone meridionale. I risultati della ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Bisceglie e Catanzaro 1-0, Casertana-Juestabia 0-0, Catania-Potenza 1-1, Cavese-Siracusa 2-0, Rieti-Viterbese 1-0, Sicula-Leonzio-Paganese 1-1, Virtus-Francavilla-Vibonese 1-1, Riposano, Monopoli e Trapani. La classifica. Juestabia sempre saldamente in vetta, quota 65 punti. Poi Trapani 58, Catanzaro 54, Catania 51, Monopoli 41, Casertana 40, Potenza 39, Rende 38, Vibonese 37, Viterbese-Cavese 35, Virtus-Francavilla e Regina 34, Sicula-Leonzio 32, Siracusa 28, Bisceglie 26, Rieti 25, Paganese 14, escluso il Matera. E dunque non basta, alla Potenza un gol di Giosa per strappare la vittoria al Massimino contro il Catania che pareggia ad un quarto d'ora dalla fine. Sullo 0-0 anche un calcio di rigore parato da Bresa. Sentiamo Luigi Santopietro. Se dopo un pareggio a Catania torni a casa con il rammarico, allora vuol dire che hai fatto davvero le cose per bene. Il rimpianto e il sentimento che trionfa in casa Potenza dopo la gara del Massimino terminata 1-1 dopo mille emozioni e le solite polemiche sulle decisioni arbitrali. Il Potenza parte a razzo, al secondo sepe fulmina carriero, l'escano in spaccata, gira alto. Il Catania vede le streghe ma reagisce al dodicesimo, percussione di Mané, un fulmine sulla destra. Il Gambiano in area entra in contatto con Giosa, l'arbitro vede un rigore molto dubbio a favore degli etnei. Il rosso-blu protestano ma la decisione non cambia. Dal dischetto si presenta Capitan Lodi. Brezza è mostruoso e intercetta il piazzato del regista del Catania. Dopo i due penalti, parati in Coppa contro il Monopoli, il numero 1 canadese si conferma uno specialista nei tiri dagli 11 metri. Al 22esimo ancora Catania in avanti, cross di Barai e per Curiale. Giosa in ritardo e stende l'attaccante rossazzurro. Ma dopo il regalo precedente, questa volta il signor Miele di Torino lascia proseguire. Il Potenza in tasa degli spazi di un Catania impaurito che al 29esimo per poco non fa a Rachiri. Rinvio lunghissimo di Brezza a Silvestre, di testa cerca Pisteri all'indietro. Il portiere scavalcato dal pallone, salvataggio miracoloso sulla linea di porta. Il campo sembra in discesa per il Potenza, che è padrone del Massimino. Al 35esimo Emerson mette in mezzo da fermo. Giosa è libero e maestoso nello stacco aereo. Palla in rete e rutta come un vulcano. La gele 400 tifosi rosso-blu giunti alle pendici dell'Etna. Nel replay Giosa sembra leggermente davanti alla linea dei difensori siciliani, ma la rete è assegnata a Potenza meritatamente in vantaggio. Al 38esimo un nuovo episodio in area catanese. In treccio di braccia e gambe tra Aia e Lescano si protesta da ambo le parti. Il fischietto torinese sembra scontentare un po' tutti, ma il direttore di gara fa proseguire. Al 42esimo carriero penetra di forza in area e si schianta su Brezza, che evita ogni pericolo. Arriva alla fine del tempo con le squadre parecchio nervose. A inizio di presa fa il suo ingresso in campo di piazza. Sarà decisivo. Il Catania parte con rabbia. Al 47esimo Mane serve di piazza, mazzata dal limite, tiro deviato in angolo. Dal corner Aia va di testa, Emerson è provvidenziale nella deviazione. Il Potenza prova a spezzare la sfissiante pressing del Catania. Bomba dai 20 metri di matera, ma le polveri sono bagnate. Al 52esimo ancora da angolo, svetta su tutti i silvestri. Brezza si fa trovare pronto. Il Catania ormai sta sempre lì. Iniziativa di di piazza sulla sinistra, Giosa sparecchia. La conclusione di Lodi si frantuma sul piedone di Emerson, poi Rizzo fa solo il solletico a Brezza. Al 59esimo ancora di piazza, semi nel panico sulla sinistra, cross per Curiale che cicca la girata. Al 64esimo lancia in area di Lodi, Giosa ed Emerson a sandwich sul nuovo entrato Marotta. Ancora proteste, ma per l'arbitro non c'è nulla. Al 74esimo la svolta. Scambio Marotta-Manné, difesa potentina assaltata. Il numero 9 mette in mezzo per di piazza che deposita in rete. Tutto facile per l'attaccante di casa, forse qualche centimetro più avanti dell'ultimo difensore del Potenza. Al 75esimo altro episodio decisivo con Carriero che entra duro su Matera. Cartellino rosso e Catania che chiude il match in 10. Praticamente non si gioca più. Al 90esimo ci provano i Lucani. Scambio Genchi, Lescano Genchi. L'attaccante valese si coordina e tira alto. Al 92esimo ultima emozione, contropiede Catania di piazza scappa via. Con Marotta libero al centro, l'intervento difensivo di Giosa vale come un gol. Pericolo scampato, il Potenza porta a casa un punto prezioso dopo una gara con tanti episodi da rivedere. Giosa e compagni raccolgono l'applauso dei 400 fedelissimi rosso-blu. E noi scendiamo di categoria. Andiamo in Serie D. Andando a vedere subito risultati e classifica della Girone H. I risultati della 26esima giornata del Girone H di Serie D. Altamura-Bitonto 2-1 Ercolanese-Azeta-Picerno 1-2 Fasano-Gragnano 2-1 Fidelisandria-Cerignola 0-1 Gelbison-Sorrento 1-4 Gravina-Taranto 2-0 Nardò-Pomigliano 1-1 Nola-Savoia 1-0 Sarnese-Francavilla 1-0 La classifica. Il Picerno sempre in testa con 59 punti e una partita in meno. Poi Cerignola 58 Taranto 54 Bitonto 43 Fidelisandria 42 Altamura 41 Savoia 39 Fasano 37 Francavilla 34 Gravina e Gelbison 33 Nardò 30 Sorrento Gragnano Nola e Sarnese 27 Pomigliano 16 Chiude l'Ercolanese a 8 E dunque successo sofferto di rimonta per il Picerno capolista Mugnano di Napoli contro l'Ercolanese. I Vesuviani si erano portati in vantaggio con Falivene ad inizio della ripresa I Melandrini prima pareggiano con Capitano Esposito e poi timbrano il sorpasso con Tedesco tra il 17esimo e il 22esimo della ripresa. E salvezza rimandata per il Francavilla beffato a Sarno da un pallonetto di Maione. Non basta ai sindici un buon finale di partita. Il racconto del match nelle immagini della Siritide raccontate da Michelangelo Russo. Sconfitta con tanti rimpianti per il Francavilla caduto sul campo della Sarnese che ha sfruttato la rete di Maione per ottenere tre punti d'oro in ottica salvezza. Trasferta a Amara per il Francavilla che sperava di poter conquistare i punti utili a tagliare il traguardo della salvezza matematica e allo stesso tempo per restare in scia alle squadre che lottano per i playoff. Signici senza Morales e Di Giorgio partita decisamente non bella ma dai ritmi alti. Al 15esimo la prima bussata del Francavilla la Vopa servito da Thomas Grandis sollecita i pugni di Mennella con una botta dal limite dell'aria. Al 25esimo la rete decisiva Lepre scodella in area una palla a scavalcare la difesa Maione intuisce l'idea entra in area e sull'uscita di Boglic con la punta a Pennella un pallonetto delizioso che si insacca per l'1-0. Al 27esimo cross di Lepre che favorisce una debole vole di Maione primo tempo avaro di tiri ma la ripresa lo è ancora di più il Francavilla schiera le tre punte ma il muro granata resiste spazzando via le sortite belletarie dei Lucani. Al 23esimo la Sarnese può chiudere il discorso Lepre batte una punizione sul secondo palo sbuca Girardi che tutto solo di testa non inquadra lo specchio della porta. Il Francavilla nei minuti di recupero può però recriminare per un gol annullato del Prete per fuorigioco suspizzata di Ciavarria l'ultima chance è proprio sul destro di Ciavarria che da buona posizione spara un destro alle stelle. Ora la pausa per compiere il definitivo salto di qualità ed evitare di perdere per strada il vantaggio accumulato finora. E per il rotonda nel Gironei arriva una sconfitta che fa male i lupi del Polino sono stati battuti di misura dal Portici a decidere la sfida un calcio piazzato di Nappo a metà del primo tempo. Andiamo a vedere risultati e classifica del Gironei. I risultati della 26esima giornata del Gironei di Serie D Acireale Turris rinviata al 10 marzo Castrovillari Cittanovese 3 a 2 Città di Messina Bari 1 a 3 Gela Messina 0 a 1 I Giavirtus Troina 0 a 1 Locri Marsala 1 a 4 Nocerina Roccella 2 a 0 Palmese San Cataldese 1 a 0 Portici Rotonda 1 a 0 La classifica Bari in fuga quota 62 punti Segue la Turris a 50 Poi a Cireale e Marsala insieme al Portici a 40 Gela Cittanovese e Castrovillari 37 Palmese Troina e Nocerina 36 Messina 31 San Cataldese Città di Messina 27 Roccella e Locri 26 Rotonda 20 I Giavirtus chiude a 19 E passiamo ai campionati regionali In eccellenza continua la marcia solitaria del Grumentum che si aggiudica il derby contro il Moliterno con un clamoroso 8 a 1 Tiene il passo il Lavello che manda K.O. Lavigliano mentre il Melfi rallenta ancora facendosi fermare sul 2 a 2 dal Real Tolve Risale la Vulture che batte per 3 a 0 la Murese Vediamo risultati e classifica del campionato di eccellenza I risultati della 25esima giornata di eccellenza La capolista Grumentum travolge il Moliterno 8 a 1 Latronico batte Montescaglioso 2 a 1 Lavello Avigliano 4 a 0 Melfi e Real Tolve 2 pari Policoro batte Ferrandina 1 a 0 Pomarico Ripacandida 1 a 1 Real Metapontino Real Senise 3 a 2 Vulture batte Murese 3 a 0 Per una classifica che vede sempre in testa il Grumentum Con 64 punti a più 5 sul Lavello Inseguono il Melfi a 56 La Vulture a 55 Più giù Real Metapontino 42 Real Senise 38 Policoro 37 Moliterno 32 Real Tolve 28 Montescaglioso e Pomarico 26 Ferrandina 23 Avigliano 21 Ripacandida 20 Chiudono il Latronico a 15 Più staccata la Murese a 11 Ed in promozione vittoria a suon di gol per le prime due della classe L'Atletico Lauria batte il Castelluccio per 4 a 1 Risponde il Brienza che passa per 5 a 0 sul campo del Miglionico Vittoria preziosa anche per il Lutito sul campo della Raff Veianomo Vediamo risultate classifiche I risultati della 22esima giornata di promozione Anzi Oraziana Venosa 2 a 3 Castelluccio-Atletico Lauria 1 a 4 Miglionico-Brienza 0 a 5 Paternicum-San Cataldo 1 a 1 Possidente-Oppido 1 a 3 Raff Veanum-Lutito 1 a 2 Virtus Bella-Sant'Arcangiolese 2 a 3 Per una classifica che vede in testa l'Atletico Lauria con 55 punti Seguito dal Brienza a 50 Più giù il Castelluccio a 39 Quarto il Paternicum con 37 Seguito da Lutito a 36 Oraziana 32 Anzi 31 Sant'Arcangiolese 28 punti San Cataldo-Raff Veanum appaiata a 26 Oppido 23 Possidente 18 Miglionico-16 Chiude Virtus Bella con 9 punti E vittoria casalinga nella A2 Maschile di Volley per la Geosat Lago Negro che ha battuto Leverano al Palalberti per 3 a 1 Parziali 25 a 21 25 a 15 12 a 25 E 25 a 19 Valnocini che salgono a 31 punti in classifica Siamo arrivati alla fine di questa edizione della nuova sport del lunedì Per rivivere tutti i temi della domenica calcistica appena conclusa vi diamo l'appuntamento a stasera con Stop & Goal alle 19.45 e poi in replica alle 21.30 e alle 23.30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione